C'è anche il marito di Liliana che più volte l'avrebbe accusata di aver sottratto la fede, di aver trovato la fede nuziale con lei. C'è questo giallo della fede, ma questa fede di Dilli, che fine ha fatto? Ce l'ha effettivamente Sebastiano? Dopo due anni di sue comparsate blatterate in tv, con molta fantasia, dove dice, sai, la signora Gabriele, magari la signora non mi ha mai detto, Gabriele è scesa con gli occhi rossi, con gli occhi gonfi, saltellavano per casa come dei folletti a ricercare, sono venuti con l'inganno, con stratagemmi. Ma sai cosa le dico? Che il signor Sebastiano, dopo tanti anni di lavoro in nero come a Rotino, adesso è pronto, credo, con tutto quello che dice in tv, anzi parecchia audience ha creato, potrebbe fare delle buone fiction. Per quanto riguarda la fede, invece, lui non si deve permettere di dire, ho trovato la fede con Gabriele nel cassetto del comodino di Liliana, perché io lo dico pubblicamente che con lui non ho trovato nessuna fede nel cassetto di Liliana. Potrebbe dire, invece, cosa ha trovato con me nel cassetto di Liliana, oltre che la busta con i soldi? Ci aiuti Gabriele, cosa ha trovato? Chiede a lui una cosa che secondo me è molto importante. Gli inquirenti, naturalmente, sono stati da me informati. E una cosa che voglio dire al signor Sebastiano, lo invito pubblicamente ad andare davanti agli inquirenti, ecco, e fare un confronto tra noi due. Sulla fede, sul cavo traino, sui soldi, sui suoi scatti d'ira, su tutto quello che a lui non torna. Grazie. Grazie. Grazie a tutti